Antonio Folcarelli, innanzitutto, come hai scoperto questo sport? Vedendo mio padre alle gare, ci sono andato fin da quando ero piccolo e subito a sette anni ho cominciato le prime gare da G1. Parlando di multidisciplinarietà, il ciclocross per te è anche preparazione per l'attività sul mountain bike e sulla strada? Sì, è una preparazione invernale, ho finito il ciclocross e poi mi dovevo molto bene anche su strada e mountain bike. Qual è la soddisfazione più grande che ti ha regalato questo sport? È stato vincere il mio primo campione italiano a Vittorio Veneto. Antonio, si sta avvicinando il Giro d'Italia di ciclocross, per te cosa rappresenta? È una grandissima emozione fare il Giro d'Italia e spero anche quest'anno di andare bene come lo scorso anno. Cosa ti ha insegnato questo sport? Mi ha insegnato a faticare molto, perché è molto duro, con la fanga, il freddo, però mi piace. Antonio, il tuo messaggio ai bambini che si avvicinano a questo sport? È di iniziare come un gioco e poi andando avanti può darsi che si diventa forte e arrivare fin qui come noi. Grazie a tutti.